PyCrystal nasce a Milano nel 1965 e diventa in breve tempo un punto di riferimento nel settore delle paste abrasive utilizzate nel processo di burattatura e per la finitura superficiale in svariati settori industriali. I nostri prodotti da subito originali e innovativi trovano applicazione nel mondo degli occhiali, degli accessori moda come i bottoni, le fibbie, i decori, gli ornamenti per i capelli e nella lucidatura di oggetti in plastica e metallo. A inizio anni 2000 avvengono due importanti svolte nella storia dell'azienda. In primo luogo PyCrystal decide di spostare la propria sede operativa trasferendo l'azienda nel cuore delle Dolomiti, in Cadore. Questa scelta le consente di avvicinarsi a una parte importante dei suoi clienti nel distretto dell'occhialeria che in quest'area è fortemente sviluppato. In seconda battuta PyCrystal aggiunge delle linee dedicate al trattamento delle superfici nel mondo della nautica e dei materiali compositi, quindi nel mondo delle vernici delle auto e del mobile dell'accato. Nel 2004 l'azienda decide di investire direttamente in Cina ed in India, con proprie sedi commerciali attive ancora oggi nei rispettivi mercati. Sono due i tratti che hanno da sempre contraddistinto l'attività di PyCrystal, il servizio al cliente e l'attenzione per la ricerca. Il nostro staff, costituito da chimici e personale qualificato, propone costantemente nuove soluzioni per soddisfare le applicazioni specifiche dei nostri clienti, lavorando in aree test che replicano le condizioni industriali. Allo stesso tempo collaboriamo con istituti di ricerca e fornitori selezionati che ci consentono di innovare costantemente i nostri prodotti. Operare in contesti dagli standard così elevati richiede di tenere molto alta l'asticella della qualità. Ci sprona a migliorare giorno dopo giorno per realizzare processi di lucidatura a regola d'arte e di conseguenza i nostri clienti vengono davvero riconosciuti come maestri della lucidatura. Il tutto con una particolare attenzione alla sostenibilità e al rispetto per l'ambiente, valori imprescindibili per un'azienda chimica che opera nel cuore delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO.